ciao ragazzi bentornati in una nuova top ten oggi stileremo una classifica molto particolare quali sono i dieci video più visti sempre di youtube italia numero dieci decima posizione per se è più bella di quello che pensi che detto così sembra una cosa da provoloni però è una pubblicità fatta dalla dav italia ebbene questo video apre la classifica con quasi 7 milioni di views numero 9 nona posizione per quello che secondo me è uno dei video più belli di youtube italia di sempre shish la canzone si chiama shish is the world realizzata da christian ice questo video attualmente sta a 7 milioni e mezzo di views ma è chiaro che cambierà con il tempo comunque ha fatto il giro di tutte le televisioni italiane e non numero 8 ottava posizione attualmente a 7 milioni 800 mila views troviamo 50 sfumature di grigio il trailer diciamo che da questo video avremo un lento declino proprio un degrado assurdo andiamo avanti numero 7 io odio gangnam style settima posizione per michael righini con questo suo video che ha totalizzato la bellezza di 10 milioni di views e passa ovviamente numero 6 sesta posizione per il video più visto di sempre di favij e scusatemi ma lo devo leggere perché è un po lungo da ricordare ok momenti effici nei videogames 7 speciale 750 mila iscritti tra parentesi quadrate parlo così perché è tutto scritto maiuscolo ma in realtà lo faccio pure io quando scrivo top 10 quindi va bene mi sto prendendo per il culo da solo andiamo avanti prima di andare avanti devo dire che sta quasi a 12 milioni di views no per la cronaca però poi aumentano qualcuno mi dirà guarda che ne ha 13 milioni grazie al cazzo passato un mese ha totalizzato un altro milione di views numero 5 quinta posizione per il video di violetta sto parlando de nel mio mondo di disney channel italia anzi it voglio morire voglio morire si fa per dire si dice così per burlarsi capito ha totalizzato la bellezza di 13 milioni di views superate attualmente quindi fra qualche mese poi 14 15 milioni non dici nulla aiuto aiuto numero 4 quarta posizione medaglia di legno per uno dei video più aulici di youtube italia scorregge sulla gente al parco di frank matano con questo video l'ex mente contorta ha superato le 14 milioni di views numero 3 terza posizione medaglia di bronzo per all'alba sorgerò ovviamente sto parlando della meravigliosa canzone di frozen il regno di ghiaccio ovviamente il canale che ha pubblicato questo video è disney italia e ha totalizzato la bellezza di 21 milioni di views numero 2 seconda posizione medaglia d'argento per suor cristina scuccia scuccia è scritto proprio così è un titolo molto più lungo però è inutile tanto ve li linko tutti qui sotto quindi se voleste vederli trovate qui è ovviamente un video di the voice of italy e ha totalizzato la bellezza di 85 milioni di views numero 1 prima posizione e medaglia d'oro per il pulcino pio ufficio al video fine video che ha totalizzato la bellezza di 154 milioni di views e che lo rende di fatto il video più visto di sempre di youtube italia bene ragazzi anche questa top 10 è finita mi raccomando condividete laicate e iscrivetevi e commentate qui sotto rispondendo alla seguente domanda e potreste essere inseriti nel mio prossimo video qual è il vostro video preferito di youtube italia mi raccomando scrivetemelo qui sotto e noi ci vediamo la prossima top 10 youtube